Quattro principi sono fondamentali per conoscere questo tipo di proposta di allenamento, questo tipo di tecnica. Più ce ne sono due che vanno in aggiunta quando si è un po' più specializzati in questa disciplina. Il primo è il controllo, poi abbiamo la concentrazione, la centralizzazione e la respirazione. Perché è fondamentale conoscere il Pilates in relazione ai principi? È fondamentale perché sono quelli che regolano il movimento del Pilates. È vero, il Pilates ha all'incirca 500 esercizi tra il lavoro a corpo libero, il mat work, viene definito il mat, il lavoro con i piccoli attrezzi, quindi il roller, il magic circle, la stability ball, le palline, la banda elastica e i lavori con i grandi attrezzi, Wundacher, Cadillac, Reformer e Barrel. Noi lavoreremo solo a corpo libero, eventualmente lavoreremo con i piccoli attrezzi per quello che può servire. Quello che è importante è capire che un esercizio è definito Pilates una volta che rappresenta, che in esso racchiude i quattro principi fondamentali e i principi posturali. Quindi probabilmente anche fare una lat machine, un pull down, fare uno squat, che apparentemente non è un esercizio Pilates, se viene fatto lavorando e considerando questi principi, può diventare un esercizio Pilates. Cioè il nostro bacino di movimenti si può espandere. E quindi il consiglio è utilizzatelo sempre, qualsiasi tipo di esercizio proponiate, proprio perché rende molto più efficace il movimento. E una volta in cui questo è insito nella postura del corpo delle persone, sarà molto più semplice. Cioè mentre lavori casomai sulla tonificazione, puoi inserire i principi del Pilates per lavorare sulla postura e ottieni due cose assieme, altrimenti dovresti lavorare prima solo sulla postura, poi solo sul dimagrimento, poi sulla tonificazione, perdi tanto tempo e non ottieni niente. Inseriscili sempre come se fosse un valore aggiunto, facendo delle cose che spesso il cliente non pensa o che non ha mai sentito dire da un altro trainer, perché tu agganci due tecniche assieme. Programma di tonificazione, anche bodybuilding, anche crossfit, però tenendo come punto di riferimento anche degli altri principi. E appunto è ben detto che sono quattro. Controllo. Così tanto importante che la tecnica venne chiamata al tempo Contrology. Joseph Pilates non la voleva chiamare Pilates, gli aveva dato il nome Contrology. Cioè io devo avere il controllo di tutto il mio corpo in qualsiasi momento, qualsiasi azione motoria, qualsiasi posizione, qualsiasi gesto che sto facendo, deve essere sotto il mio controllo. Se lavoro tanto per lavorare, come spesso capita, tanto per fare il movimento perché dà volume, non funziona. Se lavoro con l'idea di elevare un braccio, devo lavorare pensando a come si muove il deltoide, come sta lavorando la scapola, come il dentato si attiva, come il trapezio può muoversi, proprio perché mi dà la consapevolezza sia dei muscoli superficiali, soprattutto dei muscoli profondi. Pensate a un lavoro per il core. Quanto noi abbiamo visto la differenza tra fare una sequenza addominale nella versione classica standard e nella versione invece Pilates, dove sembra più lento, sembra un po' più controllato. Quasi da fuori non si vede un grandissimo movimento. Molto più efficace. Se in un esercizio, a caso mai di tonificazione, anche di forza, con bilancieri, kettlebell, si può utilizzare. Chiedegli di controllare ancora di più, di avere la consapevolezza. Dove stai tenendo le scapole? Cosa stai facendo? Come muovi il braccio? Come utilizzi i principi posturali che vedremo subito dopo? Cambia drasticamente l'esercizio.